Passeggiate, visite alle aziende agricole, attività sportive, momenti culturali e musicali. Ai Piani Resinelli sarà un'estate ricca di eventi con le proposte di Resinelli Outdoor Experience. Il progetto, sviluppato nell'ambito del bando regionale Viaggio in Lombardia, promuove la montagna come luogo di inclusione e partecipazione sociale ed è frutto della preziosa collaborazione tra la comunità montana dell'area orientale Valle San Martino, i comuni di Lecco, Abbadia, Mandello, Ballabio e la Camera di Commercio Lecco-Como. Anche quest'anno si riparte con tante attività fatta in collaborazione fra i quattro comuni e la comunità montana che non nasce oggi ma ormai una continuità e si continuerà anche negli anni successivi. Ci sono tante opportunità non solo per gli alpinisti che conoscono per tradizione e per storia l'ambiente delle grigne, della grignetta ma anche per quelle che sono le attività per le famiglie. Prende piede il progetto Resinelli Outdoor Experience, diamo un calendario più ricco di eventi sia per l'estate e poi ne presenteremo una seconda tranche in autunno, vuol dire far lavorare i professionisti della montagna, vuol dire dare più opportunità per le famiglie, per i turisti, sia quelli di prossimità sia nuovi turisti che anche in stagioni diverse a quella dell'estate possono venire a Resinelli. Sono felice di essere tornata a Resinelli dopo tanti anni e di vedere questo sviluppo turistico che è ripreso proprio negli ultimi anni, direi soprattutto dopo la pandemia. Siamo contenti di lavorare insieme con gli altri comuni, altrimenti questo è un territorio gestito da quattro comuni, lavoriamo insieme, stiamo lavorando bene e speriamo di andare avanti. La strada da fare è tanta, ci sono tante criticità che mi portavano adesso i residenti che però credo che finché non si parte non si può raggiungere l'obiettivo. Oggi partiamo con un po' di comunicazione con la parte turistica per cercare di far diventare i Resinelli una meta non solo mordi e fuggi ma magari anche qualcuno che resta qui e sfrutta tutte le sue potenzialità. Presentato insieme al calendario di eventi il rinnovato spazio dell'ufficio turistico che sarà gestito da Sofia Bolognini e Simone Masdea, due giovani amanti della montagna già ideatori di Resinelli Tourism Lab. Sono molto contento che questo ufficio turistico aprirà tutti i giorni, gestito da Resinelli Tourism Lab e voglio augurare un grande in bocca al lupo a Sofia e Simone.